Emilia, c'è il tuo figliolo che pur non potendo manifestarsi, ma grazie al fatto che siete intervenuti, però io ho difficoltà adesso, dopo vado di qua, è così. Emilia guidami con la tua voce, allunga le tue mani prego, brava così, brava. Allora lo sai che il tuo figliolo non credeva, metti le tue mani insieme a quelle dello strumento, così, brava. Il tuo figliolo sai che non credeva nella simbologia religiosa, però crede nei simboli d'amore e questo che ti manda è il rammaricato che non può manifestarsi perché è in quella fase molto importante per le entità disincarnate in cui si deve riflettere a fondo, ma prima che lui possa liberarsi dai legami ancora mentali con la dimensione terrena, ecco questo è un dono per te, è il colore della speranza, va bene, è il simbolo dell'amore, ecco vedo che sei commossa. Questa sera siamo lieti di aver fatto una buona cosa per due persone. Ecco, attenzione che può ancora modificarsi, sentirai delle vibrazioni nelle tue mani, non aprirle però, ecco. No No No